Ha picchiato l'amico della sua ex ragazza che perseguitava e tormentava da tempo ed è stato denunciato dalla polizia di Fano per atti persecutori Un quarantenne abile nelle arti marziali che da tempo perseguitava pedinandola e affrontandola frequentemente la sua ex Non accettando il fatto che la loro relazione fosse finita si era beccato un ammonimento e gli erano state sequestrate alcune armi in suo possesso Questo non lo aveva affermato però anzi sempre più frequentemente contattava e seguiva la sua ex fino ad alcuni giorni fa dove è arrivato a malmenare un amico della ragazza che era intervenuto in suo aiuto Cosa che questa volta gli è costata una denuncia Non è il solo risultato degli uomini del commissariato di Fano coordinati dal dirigente Stefano Seretti conseguiti nella settimana scorsa Assieme ai colleghi del reparto anticrimine di Perugia numerosi controlli sono stati effettuati e che hanno portato ad identificare oltre 126 persone Ad arrestarne una e quattro denunciate a piede libero di cui una minorenne, una diciassettenne rumena colpevole di diverse truffe e di ricettazione Assicurato alla giustizia è portato nel carcere di Villa Fastigi un sessantenne laziale residente a San Lazzaro che doveva scontare pene legate a reati finanziari per un totale di quattro anni di reclusione Infine sul fronte dello spaccio di stupefacenti nei luoghi frequentati dai minori è stato rintracciato nei pressi delle scuole in piazza Amiani Un 35enne fanese già noto spacciatore in compagnia di diversi studenti con addosso 5 grammi di varia droga Cosa per la quale è stato segnalato alla prefettura come consumatore abituale Cosa per la quale è stato segnalato alla fine